Musica Matteo Messina Denaro tumulata la bara nella cappella di famiglia nel cimitero comunale di Castelvetrano. Un detenuto aggredisce due agenti di polizia penitenziaria con una lametta che poi ha ingoiato. Traffico di migranti e prostituzione, altri due ricercati, finiscono in manette. Gli scafisti lanciano messaggi sui social per raggiungere Lampedusa. Educazione alla legalità al teatro dei pupi antimafia di Angelo Sicilia al quartiere Falsomiele a Palermo. Calcio Serie B, pesante successo per il Palermo nel turno infrasettimanale. I Rosa si impongono sul campo del Venezia grazie alla tripletta di Brunori. Ben trovati alla prima edizione di Media News di mercoledì 27 settembre. In apertura parliamo di Matteo Messina Denaro tumulata la bara nella cappella di famiglia nel cimitero comunale di Castelvetrano. La salma è arrivata nella città natale del BOS intorno alle 8 del mattino, scortata dal GOM e ha raggiunto direttamente il cimitero. Non è stata celebrata alcuna funzione di tipo religioso. La salma di Matteo Messina Denaro è stata tumulata nella cappella di famiglia nel cimitero comunale di Castelvetrano. È arrivata nella città natale del BOS intorno alle 8 del mattino, scortata dal reparto speciale dei GOM. Non è stata eseguita alcuna funzione di tipo religioso. L'auto che trasportava il feretro ha raggiunto direttamente il cimitero di Castelvetrano. Ad accompagnarla l'avvocato Lorenza Guttadauro, la figlia del BOS Lorenza Messina Denaro e Vincenzo Panicola, cognato del BOS. Ad accompagnare il feretro anche il fratello Salvatore con in mano un mazzo di fiori destinati al BOS e l'altra mano poggiata sul carro funebre. Altre due auto sono entrate dentro il cimitero, seguendo la vettura che trasportava le spoglie mortali del BOS mafioso prima della chiusura dei cancelli. Terminata la tumulazione nella cappella di famiglia del cimitero di Castelvetrano, i familiari sono usciti in corteo, alcuni a piedi, altri in auto. Qualcuno si è coperto il volto con un sacchetto mentre si trovava nel lato passeggero nel tentativo di non farsi riprendere dalle telecamere. La cappella della famiglia Messina Denaro è una fortezza impenetrabile, piena di vetri spessi e grati in acciaio. È praticamente impossibile vedere cosa c'è al suo interno e in quale l'oculo è stato sepolto l'ex BOS di Castelvetrano. Un detenuto aggredisce due agenti di polizia penitenziaria con una lametta che ha successivamente ingoiato i poliziotti. Sono riusciti a schivare i fendenti ma a causa dei calci e dei pugni ricevuti sono dovuti ricorrere a cure ospedaliere. Un detenuto armato con una lametta ha affrontato due agenti di polizia penitenziaria all'interno del carcere del Lucciardone di Palermo. L'aggressione improvvisa si è verificata intorno alle 16.30 di ieri pomeriggio. A denunciare l'episodio Maurizio Mezzatesta, segretario regionale CNPP, una criticità che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, spiega il sindacalista. Ma gli agenti sono riusciti a schivare i fendenti. Gli stessi però sono dovuti ricorrere a cure ospedaliere in seguito ai calci e ai pugni ricevuti dal detenuto, che tra l'altro ha anche ingoiato la lametta. E anche in ospedale ha cercato nuovamente di aggredire il personale di polizia. In base a quanto spiegato da Mezzatesta, il detenuto da poco ristretto nel carcere palermitano avrebbe già creato episodi critici in altro istituto di pena. La situazione difficile per la polizia penitenziaria, sottolinea il sindacalista, è certificata dalle circa 60 aggressioni nelle carceri siciliane, subite dal personale da gennaio ad oggi. Tra le cause, approfondisce il sindacalista, la carenza di organico, gli arrullamenti sono rettamente inferiori ai pensionamenti. A volte conclude Mezzatesta, gli agenti preoccupati per un'eventuale denuncia nei loro confronti hanno difficoltà anche a mettere in campo azioni per arginare le aggressioni. Traffico di migranti e prostituzione, altri due ricercati, finiscono in manette. Gli scafisti intanto, grazie ai social, lanciano messaggi sui viaggi della speranza per raggiungere la Lampedusa e quindi l'Italia. Barche con motori buoni, contattami su WhatsApp. Altri due ricercati finiscono in manette nell'ambito dell'operazione del traffico di migranti e di prostituzione scoperto nell'agosto scorso tra la Sicilia e il Nord Italia. La polizia, su delega della procura, in base alle disposizioni del GIP di Catania, ha restato ricercati di 29 e 26 anni entrambi i voriani e residenti a Genova. Ci sono poi altre tre misure in carcere, sempre giovani ragazzi di nazionalità ivoriana. In particolare l'organizzazione aveva ramificazioni che partivano dalla Sicilia e arrivavano poi tra Liguria, Lombardia, Piemonte e Lazio. Per tutti l'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'operazione è stata coordinata dalla DDA di Catania. L'associazione garantiva il servizio completo che partiva dalla vera e propria presa in carico. Non c'era solo il materiale trasporto, ma anche la fornitura eventuale di documenti falsi, anche di tipo sanitario, quali falsi green pass, falsi esiti del test Covid-19 e patenti di guida. Il pagamento di somme di danaro era variabile oscillando da almeno 200 euro per il mero passaggio dei confini, sino a 1.200 euro per fasi di viaggio più ampie. Gli investigatori hanno seguito il flusso finanziario laddove possibile perché molte operazioni sarebbero state fatte in contanti, soltanto con carte post-pay, tracciate operazioni per un ammontare di 800.000 euro. Nel contempo i trafficanti di esseri umani pubblicizzano online queste tratte, d'altronde la pubblicità e l'anima del commercio, anche quello più odioso. Gli scafisti, grazie ai social, lanciano messaggi sui viaggi della speranza per raggiungere Lampedusa e quindi l'Italia, un biglietto verso l'Europa. Sulla piattaforma social TikTok i trafficanti reclutano scafisti e passeggeri con tanto di video con musichette per promuovere i loro servizi ai naviganti. Nel video, inoltre, è possibile vedere i magazzini dove vengono costruiti e custoditi i precari barchini che per tanti extracomunitari sono diventati una trappola di morte. Vengono mostrati i motori nuovi e usati, quali determinano il costo del viaggio. Sulle stesse clip pubblicate è possibile leggere il numero di WhatsApp dei trafficanti sovrimpressione, proprio come in una televendita grossolana che al posto dei materassi e pentole vende senza scrupoli la speranza o la morte. È giallo a Isola Nelle Femmine, nel Palermitano, un uomo di 53 anni è stato trovato morto nella doccia all'interno di un albergo. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che hanno aperto le indagini sul caso. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e non ci sarebbero neanche segni di effrazione alla porta. Intervenuto sul posto anche il medico legale per accertare le cause della morte. Arrestato dai carabinieri della stazione di Partanna Mondello un palermitano con l'accusa di detenzione illegale di materiale esplodente. In un garage a lui riconducibile sono stati ritrovati circa 80 kg di massa esplodente. È stato il fiuto di Nastia, un pastore tedesco specializzato nella ricerca esplosivi, a far ritrovare all'interno di un garage, nella disponibilità di un 32enne palermitano, già noto alle forze dell'ordine, circa 80 kg di materiale esplodente. L'operazione che ha consentito di sequestrare 500 artifici pirotecnici, 100 passafiamma pirotecnici, 100 micce e diverso altro materiali, quali centraline, rastrellieri e vari accessori, è stata condotta dai carabinieri della stazione di Partanna Mondello in provincia di Palermo. Hanno collaborato anche i militari del nucleo cinofili e gli artificieri antisabotaggio. Il 32enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale esplodente e l'arresto è stato convalidato dal GIP per il Tribunale di Palermo. Noto ritrovato in un pozzo il cadavere di un pastore potrebbe essere scivolato per salvare una pecora. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire se si sia trattato di un incidente o di un omicidio. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato ieri sera a Noto. Il corpo esanima è stato rinvenuto all'interno di un pozzo incontrato a Casale. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sulla morte del rumeno di 67 anni. E' ritrovato. Sono stati i vigili del fuoco a recuperarlo dopo la segnalazione giunta ai carabinieri. Nonostante il buio nella zona, i pompieri si sono calati per recuperare il cadavere ed effettuare un primo riconoscimento. L'operazione ha richiesto alcune ore. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire se si sia trattato un incidente o di un omicidio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima ieri pomeriggio stava portando al pascolo le sue pecore, quando una di loro, forse staccandosi dal greggio, è precipitata in fondo al pozzo. Il pastore, nel tentativo di salvarla, potrebbe essere scivolato cadendo nella cavità profonda a circa 7 metri. La procura ha aperto l'inchiesta sul caso e nelle prossime ore deciderà se disporre l'autopsia per verificare se tra le cause del decesso ci sono altre ipotesi a parte l'incidente. È arrivato l'autunno e sono arrivate anche le prime piogge a Palermo, bastano pochi minuti per allargare le strade e bloccare il traffico. Queste immagini che vediamo riguardo la via Cappuccini, siamo a pochi passi dal percorso Nesquara Bonormanno e dalle catacombe, un percorso praticato ogni giorno dai turisti che vengono da ogni parte del mondo a visitare la nostra città. E questo è quello che trovano quando piove, sempre sulla stessa strada si trovano a scuola dell'infanzia. E' Angelo Coluccello, colonnello dei Carabinieri, il nuovo comandante della Polizia Municipale di Palermo. L'ufficiale era in servizio al comando provinciale del capoluogo con l'incarico di capo ufficio. E' Angelo Coluccello, il nuovo comandante della Polizia Municipale a Palermo. Coluccello, colonnello dei Carabinieri in forza al comando provinciale del capoluogo, ha ricoperto come ultimo incarico il ruolo di capo ufficio. Succede a Margherita Amato, prima donna al timone della Polizia Municipale, con una lunga carriera professionale all'interno del corpo. La determina alla nomina dell'ufficiale dei Carabinieri è stata firmata dal capo aria Alessandra Autore. Il nome del colonnello Angelo Coluccello è stato scelto dal sindaco Roberto Lagalla tra le 29 istanze ricevute per ricoprire l'incarico. Il comune di Catania ha presentato la nuova flotta elettrica di MTS. Mobilità sostenibile ed ecologica. La flotta di autobus totalmente elettrici dell'azienda metropolitana Trasporti e Sosta Catania SPA con il comune di Catania potenzia per un servizio sempre più efficiente. Sono stati presentati infatti alcuni modelli dei nuovi 18 bus full electric che, uniti agli altri già in circolazione sulle strade urbane, vanno a comporre una flotta di 36 vetture elettriche, facendo di Catania il parco mezzi elettrico più grande della Sicilia e uno tra i più grandi d'Italia. Ad essere schierati una decina tra bus lunghi 12 metri della Solaris e bus corti 8 metri della Carsan, acquistati con fondi pon metro da MTS in qualità di soggetto attuatore beneficiario del comune di Catania. Ma, l'altra notizia importante, a queste vetture si aggiungeranno altri 130 bus totalmente elettrici che saranno acquistati con i fondi PNRR già a partire da fine anno e scaionati fino al 2026. È un'ulteriore dimostrazione di come si stanno utilizzando i fondi comunitari e la dimostrazione anche del gioco di squadra che si è messo in campo con la precedente amministrazione e che sta andando avanti con l'amministrazione Trantino, un gioco di squadra in questo caso proprio tra la direzione politica comunitaria e la MTS partendo proprio dalla sottoscrizione avvenuta nel 2001 di quella convenzione che ha fatto diventare soggetto attuatore proprio la MTS per accelerare la spesa sui fondi comunitari e abbiamo raggiunto i target proprio che erano stati prefissati dall'Agenzia per la coesione territoriale e questo è certamente motivo di grande soddisfazione perché siamo tra le prime città in Italia per quanto riguarda il raggiungimento dei target di spesa tra le prime città in Italia ad aver velocizzato l'iter per l'acquisto di questi bus elettrici che sono un po' in seguito anche di quello che si è fatto con le auto elettriche che vediamo appunto in città ed anche l'idea di come sia cresciuta tanto proprio la MTS con in testa il suo presidente grazie appunto a questa perfetta sinergia 36 nuovi bus elettrici, questi si andranno ad aggiungere ai 130 bus sempre elettrici che stiamo acquistando con i fondi PNRR che arriveranno da fine anno fino al 2026 ovviamente scaglionati e faranno di Catania una città assolutamente impatto zero per quanto riguarda le emissioni ambientali e inoltre chiaramente ci sarà una flotta nuovissima che contribuirà a determinare una maggiore efficienza una maggiore affidabilità dei mezzi e quindi maggiore puntualità e miglioramento del servizio La scuola del futuro tra le sfide e l'opportunità offerte dall'intelligenza artificiale questo è il tema della seconda edizione di Didacta Italia edizione siciliana l'evento si terrà dal 12 al 14 ottobre negli spazi espositivi di Sicilia Fiera a Mister Bianco in provincia di Catania Didacta è la nuova scuola del futuro le nuove tecniche di istruzione, le nuove metodologie l'intelligenza artificiale, le aule immersive tutto quello che oggi entrando in una scuola un alunno e un insegnante vorrebbe vedere La nostra scommessa è a modernare gli istituti coinvolgere i docenti fare capire come cambia la scuola rendere le nuove metodologie applicabili a tutti e far conoscere ai ragazzi che le scuole non hanno soltanto una funzione didacta ma hanno anche una funzione educativa, sociale apriremo le scuole durante tutto l'anno e non soltanto durante l'orario delle lezioni Sono felicissima di essere qui e di organizzare per il secondo anno come Didacta Italia l'edizione siciliana Ci dobbiamo aspettare che Didacta è praticamente raddoppiata ci sono il doppio degli spazi il doppio degli eventi formativi il doppio delle aziende e quindi sarà un evento l'anno scorso è stato un grandissimo evento quest'anno ci auguriamo che i docenti e i dirigenti scolastici vengano ancora di più perché c'è una maggiore offerta tre giorni pieni di scuola questa è la cosa bella saranno tre giorni incentrati sulla formazione per il personale scolastico al centro sarà poi la bellezza di vedere come si fa a scuola partendo proprio dagli insegnanti e dalla loro voglia di mettersi sempre in gioco formandosi e migliorando le proprie competenze professionali migliorare la propria capacità di adattarsi anche ai cambiamenti della società serve anche a fare in modo che la scuola possa essere sempre uguale ma sempre diversa perché le risposte possono essere diverse agli stessi problemi uno stesso problema lo si può affrontare in maniera diversa pensate ai contesti più difficili dove gli insegnanti si trovano a volte anche costretti a dover supplire ad alcune carenze a volte del territorio a volte delle famiglie che non hanno mezzi in questo caso noi dobbiamo sostenere i docenti perché è giusto che loro abbiano anche tutti quegli strumenti necessari ad affrontare i problemi quotidiani Vino Connect Sicilia la nuova cooperativa di comunità che unisce oltre 30 cantine dell'isola da Pachino via al progetto che valorizza la filiera vitivinicola la cooperativa di comunità Vino Connect Sicilia sarà il nuovo acceleratore di filiera dell'isola è stato presentato a Feudo Maccari il progetto il credito cooperativo acceleratore per lo sviluppo nelle aree dalla Val di Noto alla Val di Mazzara Terre dei Vini il programma delle azioni di Vino Connect Sicilia passa dalla cooperazione tra cantine, istituzioni, musei associazioni, sommelier e professionisti del settore e si concretizzerà in 18 mesi la pianificazione delle iniziative punta a segnare il territorio con effetti a lungo termine che possano garantire un futuro alle terre dei vini di Sicilia qui siamo riusciti a realizzare BCC di Pachino insieme a BCC di San Cataldo a conf cooperative e con l'aiuto anche di questa associazione locale Vini Vino siamo riusciti a realizzare un progetto importante che durerà 18 mesi con tutta una serie di manifestazioni di promozioni eccetera eccetera che diciamo Fondo Sviluppo ha ritenuto meritevole di un cospicuo finanziamento riputiamo la grande opportunità per i territori coinvolti in questo grande progetto di sviluppo sia economico che sociale che porterà una grande cooperazione per cercare di sviluppare il settore dell'enoturismo e a tal proposito abbiamo appunto messo insieme tutte le risorse disponibili che hanno sposato con noi il progetto Vino Connect Sicilia dalla Val di Noto alla Val di Mazzara grazie al credito cooperativo di Pachino di San Cataldo la federazione regionale e nazionale e soprattutto a Fondo Sviluppo che è il sostenitore di questo meraviglioso e grande progetto noi oggi invece usiamo il termine di cooperazione non perché è più bello ma perché ha un contenuto un significato fattivo soprattutto perché bisogna finalmente passare ai fatti concreti e quindi mettere in atto ciò che fino ad oggi è stato appunto programmato grazie alla cooperazione e coinvolgimento pieno delle persone e delle realtà facendo risentire parte di un progetto e quindi creare quel senso di appartenenza che oggi era un po' perduto Il Teatro dei Puppi Antimafia di Angelo Sicilia oggi ha fatto tappa nel quartiere Falso Miele a Palermo all'Istituto Comprensivo Statale Pirandello Borgulivia per un'iniziativa di educazione alla legalità che apre il nuovo anno scolastico Siamo in una scuola dove nel passato abbiamo lavorato tantissimo sui temi della legalità siamo a Falso Miele ed è la periferia di Palermo che ha veramente tanto bisogno essendoci pochi servizi e poche alternative di svago per questi ragazzi per cui la scuola rappresenta il centro la trincea proprio dell'attività civile e democratica ecco perché noi siamo qui oggi perché vogliamo stare accanto alla scuola e dire noi ci siamo nelle parole d'ordine di Don Pinopuglisi che erano quelle del se ognuno fa qualcosa allora tutti assieme ce la possiamo fare L'Istituto Comprensivo Pirandello Borgulivia di Palermo da anni è inserita nel circuito dei progetti di legalità patrocinati sia dal comune ma anche da privati come in questo caso da Angelo Sicilia che ha proposto alla nostra scuola lo spettacolo su Padre Pino Puglisi nel ricordo del trentennale della sua morte questa infatti è una scuola ad alto rischio poiché si trova nel quartiere Falsomiele Borgulivia con forte disagio socio-economico oltre che sociale con una povertà educativa davvero notevole che in questi anni abbiamo cercato di colmare con l'aiuto dei docenti che si sono spesi proprio per la legalità e che insieme hanno contribuito a far nascere nei nostri alunni l'idea che esiste la giustizia e che la legalità non è una mera chimera ma un diritto per tutti Il coro lirico siciliano ha inaugurato il nuovo teatro Peneir dell'area archeologica delle terme romane di Santa Venera al Pozzo in Aci Catena Una serata evento per il rinato Teatro di Pietra della cittadina etnea un ulteriore successo firmato coro lirico siciliano un'inaugurazione in grande stile per il Festival Lirico dei Teatri di Pietra che si conferma tra le manifestazioni di prestigio rilevo artistico a livello nazionale e internazionale definita come la stagione più cool dell'estate siciliana 2023 Una gremita cave ha acceso di speranza e gioia la serata di apertura della special edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra il coro lirico siciliano e l'ensemble orchestrale diretti da Francesco Costa hanno esaltato le pagine più note dei grandi musicisti legati fortemente alla Sicilia Franco Battiato e Gioni Russo più di due ore di concerto con un programma incentrato sulla produzione musicale più celebre ma anche più intima e spirituale di Battiato reinterpretata in una chiave acustica singolare dalle risonanze che fanno eco alla classica al popolare e al pop e che hanno omaggiato l'arte mistica universale del celebre cantautore Etneo l'evento concertistico di inaugurazione ha potuto godere della partecipazione di un nutrito parter di voci Rita Botto Sonia Dario Alberto Munafò quest'ultimo fortemente apprezzato per la superba prova nel celebre inno poetico di Battiato La Cura tre musicisti Gianluca Abate virtuoso pianista che ha regalato emozioni anche durante l'intervento poetico di Maria Grazia Tra i momenti più ricchi di energia e convolgimento l'omaggio a Juni Russo oltre all'astruggente intima interpretazione di strade parallele con la particolare interpretazione di Rita Botto si è realizzato in un'inedita versione per color lirico e orchestra firmata da Corrado Neri uno dei brani che ha contraddistinto la carriera di Juni Russo la sua figura ispirato al cantico di San Giovanni della Croce Ci spostiamo a Messina a Mili San Pietro in occasione delle vie dei tesori apre l'abbazia normanna per due weekend Le vie dei tesori nell'ultimo fine settimana di settembre nel primo di ottobre aprirà anche questa chiesa grazie alla disponibilità del CTG di Mili San Pietro che negli ultimi anni ha curato proprio la fruibilità di questa chiesa in collaborazione con la parrocchia di Mili sono due weekend quindi un sabato e una domenica in cui previa prenotazione preferibilmente sul sito di vie dei tesori sarà possibile visitare appunto il monumento purtroppo soffre del fatto che il monastero è in mano ai privati ed è cadente nonostante sia vincolato e su questo il coordinamento per la tutela della chiesa normanna sta portando avanti da tempo un'azione di moral suasion sia sull'opinione pubblica che sulle istituzioni che sono interessate al problema non è un problema di facile soluzione diciamo che già aprire la chiesa lo scorso anno è stato un grande risultato perché prima anche quella era inaccessibile però sicuramente noi non molliamo su questo e quindi puntiamo anche a far rivivere l'antico monastero quando si parla di turismo questo bene potrebbe essere inserito in un circuito perché non si riesce a metterlo in rete diciamo che noi abbiamo già promosso la messa in rete di questa chiesa l'anno scorso per iniziative specifiche con le altre chiese italogreche del messinese quindi sia quelle della rivela ionica sia quelle dei nebrodi certo questo è diverso da una fruizione turistica continuativa intensa non è semplice sia per la logistica del luogo sia perché evidentemente i flussi turistici o escursionistici come quelli delle crociere hanno già delle destinazioni è una prospettiva su cui noi puntiamo perché soprattutto i più giovani possano trovare qui anche una fonte di lavoro di reddito e ce ne sarebbe e passiamo al calcio Serie B pesante successo per il Palermo nel turno infrasettimanale Rosa si impongono sul campo del Venezia grazie alla tripletta di un super Brunori che cancella lo zero dalla casella dei colsegnati e ritrova il secondo posto in classifica vediamo l'immagine più forte emozionante e carica di significato è quella scattata dopo il primo gol Matteo Brunori porta via da Venezia il pallone della tripletta e nella notte in laguna prende a calci e pallonate tutti quelli che erano stati i malumori della tifoseria il Palermo si può dire ha ritrovato il proprio eroe ma da Big si è comportata tutta la squadra sul campo del Forte Venezia battuto per 3 a 1 i rosanero cancellano in un sol colpo la sconfitta col Cosenza centrano il terzo successo esterno consecutivo e soprattutto ritrovano la seconda posizione in classifica con una gara in meno vittoria tutt'altro che semplice quella contro i verde nero arancio che però sta ad indicare un dato di fatto la squadra di quest'anno ha enormi margini di crescita e la qualità dell'organico oltre al grande carattere e all'esperienza di diversi elementi permette di sopperire a fasi di sofferenza così è successo anche a Venezia dove i padroni di casa hanno più volte messo in difficoltà Pigliacelli dopo il gol di Brunori in avvio sul rigore ed il pareggio di poi a palo il capitano si è scatenato nella ripresa con un gol di testa su sponda di un super Lucioni e poi con una conclusione di sinistro emozione del numero 9 al termine della sfida oggi era importantissimo di dare un segnale che siamo dentro nelle difficoltà che abbiamo avuto nella partita comunque tipo senza abbiamo raggiunto la grande squadra la squadra con carattere quindi siamo contenti di questa partita quindi poi è normale l'attaccante quando non trova la via dei gol c'è un po' di nervosismo però ecco ero fiducioso e siamo contenti sono responsabilità che qualcuno si deve prendere e mi sono sentito di tirare il rigore era giusto che lo facessi sicuramente sono episodi sono contento che è entrata che abbiamo sbloccato la partita in un momento importante perché all'inizio poi si è incanalata nel verso giusto e abbiamo combattuto fino alla fine io penso che la squadra i ragazzi si siano preparati bene a questa partita avevamo già fatto una grande prestazione con il Cosenza che evitava un risultato diverso ero anch'io curioso di vedere come avremmo reagito alla sconfitta e la prestazione è stata una prestazione importante Gagliarda con coraggio con personalità siamo stati aggressivi siamo sempre riusciti a ripartire quando andavamo alla palla facevamo le nostre cose sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi e come dicevo anche ai tuoi colleghi volevo fare una menzione per i 500 tifosi che ci hanno seguito qui per aver regalato questa grande gioia e i tanti che ci hanno seguito da casa per aver regalato loro una bella serata noi li mandiamo da parte nostra un grande abbraccio questa sera gioiamo insieme per questa bella partita e questa bella vittoria E il Palermo quindi vince a Venezia 3-1 grazie alla tripletta di Matteo Brunori e la felicità dei tifosi che hanno seguito la squadra Pronta reazione del Palermo dopo la sconfitta in casa con il Cosenza di venerdì scorso i rosanero vincono giocando una grande partita solida e concreta in casa del Venezia diretta concorrente per la promozione grandissima la felicità dei 500 tifosi presenti al Penso sentiamone alcuni a fine gara Il Palermo vince e convince finalmente con due gol di scarto con tripletta di Brunori con una formazione diversa con un gioco che è sempre cambiato non ho visto il prossimo mezzo e che dire il Venezia è una gran bella squadra tre punti e andiamo avanti forza Palermo e adesso si ritorna a Milano ciao secondo me una prestazione di carattere per questo Palermo che veniva alla sconfitta casalinga col Cosenza niente un regalo sono tre sono tre qui a Venezia a Venezia tripletta di Brunori si sblocca il bomber non ce n'è per nessuno è stata una partita è stata una partita dura è un campo difficile però l'importante è avere preso i tre punti davanti così che siamo sulla strada giusta forza Palermo dai ragazzi padrone a casa non ce n'è quel nodo alla grande la Palermo parliamo ancora di sport con il sorteggio che si è svolto a Barcellona le squadre siciliane di palla a nuoto impegnate nella Lenne Euro Cup hanno conosciuto le avversarie che affronteranno nella seconda fase a gironi del torneo si è svolto a Barcellona il sorteggio dei gironi della seconda fase della Lenne Euro Cup di palla a nuoto nel girone A la prima squadra ad essere estratta dall'urna è stata il Telimar Palermo che affronterà il Barcellona il Solaris e il Turconi l'altra siciliana il Circolo Canottieri Ortigia è stata sorteggiata nel girone C ma data la presenza del Sabac squadra serba con la quale aveva già giocato il primo turno è stata spostata nel girone D dove incontrerà la palla a nuoto Trieste il Primorac e il Pagnonios la prima giornata della seconda fase è prevista per il 7 ottobre mentre l'ultima si disputerà il 9 dicembre si qualificheranno al turno successivo le prime due di ogni girone che accederanno alle Final 8 con le otto squadre che retrocederanno dalla Champions League l'allenatore dell'Ortigia Stefano Piccardo al termine del sorteggio dei gironi ha dichiarato il sorteggio non è stato benevolo perché troviamo il Trieste che è la nostra bestia nera visto che in casa loro non abbiamo mai vinto poi c'è il Pagnonios squadra che si è attrezzata ed è costruita per vincere la coppa infine il Primorac che è un'ottima formazione bisognerà pensare partita dopo partita e cercare di lavorare al meglio peccato per la prima gara perché ci mancheranno due giocatori ossia Bitazze scuolificato e Inaba che è già partito per disputare i giochi asiatici con il suo Giappone vedremo cosa ci riserverà il calendario qui a Siracusa mi auguro siano tre partite nelle quali riusciremo a riempire la piscina poiché questo è un mini girone e in casa bisogna assolutamente fare la differenza ed è tutto per questa edizione vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento con i prossimi notiziari di Media News Grazie a tutti